Trovata Liliana, è mai possibile che il corpo sia rimasto qui per 19 giorni? No, assolutamente impossibile. Non può essere stata ritrovata così perfetta, pulita, e se si è stata tutti quei giorni lì. L'hanno portata lì, a posteriori. Lei ha un'idea se l'è fatta? Credo che lei si sia tantissimo spaventata e comunque qualcuno qualcosa ha fatto. Ha questi lividi sul volto. Potrebbe avere avuto uno schiaffo, potrebbe avere avuto un pugno. Cosa sa dirmi di Sebastiano? Non sono mai uscita con loro. Siamo incontrati insieme la prima volta. Il giorno in cui io ho conosciuto Sebastiano era un ennesimo caffè con Liliana una decina di anni fa. Lui girava in bicicletta e ricordo che Liliana gli disse ma vieni qua, vieni a bere anche tu un caffè con noi. Lui è venuto, è stato forse tre minuti e poi è andato. Il tempo di vedere è chiaro. Quindi c'è stata come una sensazione che volesse controllarla. Quando ha chiamato Sebastiano? Subito dopo che ho saputo. Quindi il 17 poteva essere il 18 di dicembre. E lui come si è mostrato? Parlava poco, evasivo, parlava poco. Non so, non so, non so, non capisco. Io gli ho chiesto ma stava male? Ma forse perché lei ha fatto da poco il vaccino, forse non stava tanto bene negli ultimi dieci giorni. E lui mi ha detto ma da qua a sparire ce ne corre, ma può essere successo qualcosa. E non lo so, mi disse anche che forse ha perso la testa e è andata via come è successo un'altra volta. Era già successo? No, non è mai successo. Vuole fare un appello al marito? Io desidero sentire una volta che dicesse desidero la verità per Lily, farò di tutto perché la verità esca. Questo sarebbe un regalo per Lily.